Esordio immediato per Raffaele Maiello, speso da Michele Mignani per i contestuali forfè insieme agli innesti di Belli Ricci e che dira nello starting eleven del Bari che affronta al Marcello Torrella Paganese. Il neo arrivato dal Frosinone presidia la zona antistante alla difesa e sembra immediatamente a suo agio. Come del resto l'intero gruppo è un super Antenucci che inganna Cantè e serve in area Ricci, su di lui Martorelli commette fallo da rigore secondo Giordano Di Novara, direttore di gara che indica il dischetto dal quale Mirko Antenucci batte di potenza Baiocco, una revanche dopo il penalty fallito all'andata. Bari totalmente in controllo, il raddoppio è improvviso potente e lo firma un immenso Alessandro Mallamo, arpiona un pallone dai 25 metri e lo scaraventa letteralmente alle spalle del portiere stellato. In scioltezza il Bari, Maita, Ricci, Antenucci, il pallone fuori di un soffio. Ma allo scadere di frazione prima Mallamo deve abbandonare il campo, quindi giunge il gol di Luigi Castaldo a dimezzare lo svantaggio, un blackout che consegna il Bari ad una ripresa più insidiosa del previsto. Dentro Simone Simeri, tasso di agonismo che cresce, la formazione di Grassadonia ci crede, inserisce Diop che va a far coppia con Castaldo, Mignani passa al 3-5-2 a specchio rispetto ai Campani con dentro Di Gennaro, Gigliotti e quindi allo scadere il rientro di Valerio Di Cesare recuperato a tempo di record. A tempo scaduto il possibile fattaccio, si erge a protagonista il direttore di gara che assegna un calcio di rigore per l'uscita di Frattali su Mannarelli, una minaccia che però viene annullata prima dal palo colto proprio da Castaldo nel tentativo di trasformazione, quindi proprio da Frattali che sul susseguente corner blocca e mette il risultato in cassaforte. Si è evitato che l'ostacolo paganese sottraesse punti come all'andata. Prima delle due trasferte ravvicinate, centrata dunque il Tour de Force prosegue con l'infrasettimanale di Viterbo contro i locali del Monterosi Tuscia, si spera in una situazione meno emergenziale e più serena con un'altra battaglia ed un'altra prova muscolare vinta dagli uomini di Mignani.